In Commissione Femminicida abbiamo portato avanti la relazione sul tema degli uomini maltrattanti. È arrivata oggi in aula la risoluzione che è stata votata all'unanimità da tutte le forze politiche. Da questa risoluzione è emerso un dato importante, che il problema della violenza di genere non sono le donne. Nonostante debbano esserci numerose misure a favore della violenza di genere sulle donne, ma dobbiamo capire che il problema sono gli uomini e quindi è da lì che dobbiamo iniziare. Dobbiamo iniziare da lì per estirpare questo germe che è uno stereotipo culturale che dobbiamo abbattere e quindi possiamo farlo solamente incentivando i centri antiviolenza per uomini maltrattanti perché dobbiamo capire che l'uomo quando subisce violenza sicuramente è un uomo che deriva da uno strato sociale dove ha subito violenza per la maggior parte di genere oppure è stato testimone di violenza. Ed è questo che dobbiamo andare a fare, dobbiamo andare a lavorare su questo.